E' questa partita è quella di pensi della partita di un'altra cosa. Eh, lo so. Vabbè, però non ho appunto risparmio perché tanto... ...suventi nel passaggio di uno stedio. Sì, lì sta accadendo poi, lo so. Vai Matti! Vai Matti! Vai Matti! Vai Matti! No, io troppo la ripida qui. Stappa lì. Sì, sì, sì. Deve passare adesso, adesso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ecco, dopo che la fuori dell'accelerazione. Altrimenti sei dietro, fai con la partita di un'altra cosa. E' di tempo per la partita numero uno. E' di regolare la partita per la partita numero uno. ... ... ... ... ... ... Sì, l'anno prossimo si potrebbe... ... ... ... ... Grazie. 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 E' un sguardo. ha chiesto la fornita è arrivato un bancario la nostra veterana come capitano caldo dopo il secondo turno basta i tempi si incoprude in questo momento la gara per la battaglia numero 3 e regolare la prutenza per la battaglia numero 3 ma che sei anche a Londra mi stanno chiamando al di schiena dai Meliii via Meliii dai Meliii si ok non dai non 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 non